Previsioni per oggi al mattino in pianura cielo molto nuvoloso coperto in montagna alternanza di sole e nubi sparse nel pomeriggio in pianura coperto con piogge intermittenti in montagna coperto con piogge intermittenti previsioni per domani al mattino in pianura coperto con piogge intermittenti in montagna coperto con piogge intermittenti nel pomeriggio in pianura coperto con piogge anche forti in montagna coperto con piogge anche forti